E con l'arrivo delle piogge a Favara si intensificano le segnalazioni sui rischi derivanti dai crolli di mobili fatiscenti del centro storico. Nel pomeriggio di ieri in via Umberto sono ceduti i solai interni dell'immobile simbolo della grave emergenza venutasi a creare in seguito al tragico crollo del 23 gennaio 2010. Parliamo della palazzina originariamente a tre piani sulla cui facciata è stata installata una struttura metallica di contenimento. Giovedì scorso invece le labili e vetusta membra dello storico palazzo Miciche di Via Zanella avevano indotto i responsabili del locale ufficio tecnico comunale a chiudere al traffico sia veicolare che pedonale la stessa strada che collega la via Roma con la chiesa San Vito. Via Zanella che risulta ancora chiusa con delle barricate in legno.